Il Lactarius trivialis è un fungo che appartiene alla famiglia delle russulacee. È un fungo che si ritrova in tutta Europa, ma che è molto comune nella penisola scandinava, anche se risulta tra le specie a rischio nella vicina Danimarca. Si tratta di un lattario a lattice bianco, quindi un fungo che, in linea di massima, in Italia non è considerato commestibile, ma che alle mie latitudini viene consumato dopo adeguata preparazione, che consente di eliminare il sapore piccante e sgradevole del lattice. Il cappello ha un diametro di 6-15 cm, ma può arrivare fino a 25 cm. Inizialmente convesso, tende a spianare per poi assumere la forma depressa al centro, a imbutto similmente agli altri lattari. La superficie del cappello è liscia, ma diventa lucida e appiccicosa con il tempo umido. Il colore è da grigio violaceo a viola marrone, spesso caratterizzato da zonature concentriche. Con l'età, il cappello sbiadisce a un color cuoio pallido e le zonature diventano meno evidenti. Il bordo rimane a lungo involuto e la cuticola può facilmente essere asportata. Le lamelle sono annesse al gambo e levemente decorrenti. Sono abbastanza fitte, intercalate da lamellule di diversa lunghezza, a volte biforcate vicino al gambo e inizialmente biancastre. Negli esemplari più vecchi, il gambo è cavo e macchiato di ocra crema sporca. Il gambo è liscio, con sottili striature longitudinali e delle fossette solitamente poco evidenti e con colori. La carne è abbastanza soda e biancastra e può virare leggermente al dorato al taglio. Come per tutte le russulacee, la carne si rompe in modo cassante, cioè netto e senza sfilacciarsi. Ha un odore leggermente fruttato e un sapore pungente. Il lattice è bianco e abbondante e quando si asciuga diviene giallo-grigio-verdastro. Inizialmente ha un sapore delicato, ma poi diventa fortemente piccante e urticante. Si tratta di un fungo che trovo spesso nel mio bosco cittadino e il suo colore continua ad affascinarmi ogni volta che lo incontro. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e lascia un commento. Grazie per avermi seguito, a presto!